buonasera e salve sono giampiero ventura volevo prenotare le mie vacanze estive lei potrebbe aiutarmi si affanculo ah beh si è un po in anticipo però non è che mi vuoi scrivere una mail e no capisce perché purtroppo mi sono cambiati i miei piani estivi quindi adesso non so mi devo mi vuole un po organizzare il signor tavecchio il signor tavecchio è lì da voi sì sì è il nostro cliente è nostro cliente vuole che la richiami io quando abbiamo tempo mi vuole dare un suo numero di telefono guardi adesso ci ragioni un attimo perché so che c'è carlo e magari faccia fare a carlo faccia fare lui che abbiamo un conto in suo speso io vorrei andare in russia sinceramente avrei voluto tanto andarci non lo so perché tavecchio litiga con tutti quindi può essere che anche con voi ha avuto dei problemi di vacanze buonasera e salve sono giampiero ventura volevo prenotare le mie vacanze estive e mi ha già chiamato poco fa come ho già chiamato poco fa mi aveva detto adesso mi organizzo col mio amico poi poi vi faccio sapere la sonteri quella che aveva esposto prima che le ha detto che aveva davanti i clienti ma perché sempre colpa di carlo guardi mi scusi ho litigato con con carlo non capisco più niente ora